buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi e bentornati in questo nuovo video oggi siamo tornati con adorno a caccia di fagiani e vediamo un po come è andata la giornata vi annuncio già che sono molto soddisfatto e l'allenamento che abbiamo fatto con adorno si vede funziona continua a cercare bene ogni anno cerca sempre meglio gira sempre di più quest'anno compie tre anni e quindi diciamo che un setter maschio a tre anni inizia a cacciare veramente come dovrebbe anche se adorno è stato precoce e già quando aveva un anno e mezzo due si riusciva a cacciarci bene ma quest'anno si inizia già a vedere che gira di più cerca di più c'è tanta passione ferma tiene bene la ferma trova l'animale vola e soprattutto riesce anche a riportarli quindi ragazzi sono molto soddisfatto e buon video si attento barababa è qui è un maschio una femmina avevi paura fa dell'assi un po' Sì, vieni la... Atento Atento Sono animali veramente furbi Infatti qua sono andato avanti Perché questo fagiano ha pedinato praticamente quasi tutto il campo quindi ho mandato un babbo più avanti io ero rimasto dietro al cane e in questo momento però vedevo che cercava e forzava tanto e quindi vuol dire che fagiano si stava proprio muovendo intorno per scappare ed è riuscito a volarlo fortunatamente questo non l'ho padellato e sono riuscito a prenderlo quindi ragazzi il video è giunto al termine se il video vi è piaciuto lasciate un like e se ancora non lo avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale noi ci vediamo nel prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti